Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video e oggi vi volevo soprattutto ringraziare per il grande successo che ho avuto il mio video dello speciale dei 100.000 iscritti quello dove vi ho fatto vedere che mi sono tagliato i capelli e oggi mi trovo molto bene con i capelli corti perché soprattutto quando esco dalla doccia mi devo solo asciugare con la cappatoio e non devo usare neanche il phon poi gli altri mi dicono che sto bene quindi è buon per me diciamo e oggi vedremo le reazioni dei primi che mi hanno visto con i capelli corti ce ne saranno di tutti i colori ve lo assicuro ma ora godetevi il video, vai! chi mi ha visto per la prima volta era molto emozionato e vedrete delle reazioni molto particolari anche perché lo sapevano solo mia mamma, la Ceci e la Lisa poi il resto delle persone che mi hanno visto con i capelli corti per la prima volta non lo sapevano hanno fatto delle reazioni molto strane e io ero tranquillissimo mentre loro sembravano molto più emozionati di me ma ora godetevi il video, vai! ok adesso faremo una sorpresa alla Ceci e la Lisa 3, 2, 1 vai! vai! Madonna! Guardalo! Luca dove sarete i capelli? Sono lì fuori! Non ci sto benissimo! Mamma mia! Non so che cosa dici? Siamo una salamina! Brava! Sta bene lì già! Mamma mia che taglio raga! Luca! Tutti gli attagliati! Tutti! Mamma mia è bellissimo! È spettacolare! Mamma mia Luca! Sta benissimo! Non so cosa dire! È figo! È figo! Per forza è figo! Ottimo Luca! Bravo! Ci piace! Avete fatto un bel lavoro! Mamma mia non ho più la voce! Sono un po' ammiozionato! Scusate! È stato troppo bene! È bello! Ero in ansia per tutto il tempo! Ma ciao! Ma ciao che ansia! Io l'ho turista com'ero! Agitatissimo vero! Ma ciao che agitatissimo! Eh non vedevo l'ora di vederlo! Il risultato non è! Ottimo! Ottimo sì! Non so che dire! Che ha fatto un bello sforzo! È stato bravo! Eh beh! 300.000 iscriviti! Caspita! Non ci voleva! Bravo Luca! Sto benissimo! È stato il coppino! Questa è stato salutare e sberne finalmente! Pow! Bim! Proviamo Luca! Vediamo! Oh! Vediamo! Si sente qualcosa in me! Oh! Ha sentito! Esatto! Mamma mia! Ho il cuore ancora che... Che batte forte! Batte! Però tutto regu! Regu! Ancora intera! Luca è tranquillo! Esatto! Che tranquillo lui di noi! Luca! Di te! Ma di me esatto! Che tu sei tranquillo anche te! Bene! Chiara! Ho appena visto Luca! Cioè... Sta... Da Dio! Veramente! Non so che dire! Sono qua ancora tutta... Emozionata! E... Sta bene! Veramente! bello! Tutto regu! Tutto regu! Oddio mio! Mamma mia! Luca! Veramente bello! Ripigliati eh! Sì sì! Mi piglio! Mi ripiglio! Forse so calmi! Eh! Urgo! I capelli di Luca! Oddio! Eh! Mi ci devo ancora un po' abituare eh! Mmm! Però sono contenta! È uscito un taglio perfetto! Ciao! Ciao! No! Vai vediamo il nuovo Luca! Amore mio Amore mio Non sembra ma lo è Come ti chiami? Quanti anni hai? Piccolino Sei bello No ma non è Luca Aiuto Chi so chi ti vede Ma ciao Vai Sei anche Pilo? Come stai strafitto? Come stai strafitto? Come stai strafitto? Che bello Che bello Che bello Stai benissimo Ma che figo Faccio giù Faccio giù E' perfetto Dai che facciamo la foto Eccoci qua Adesso abbiamo i miei capelli Come potete vedere Che ho tagliato Ho fatto delle trecce E l'ho messo dentro un sacchetto Così c'era scritto Nel segnatario Banca dei capelli Ho qua una bustina Che metteremo nella nostra bustona Domani andrò in posto a spedirlo E colgo l'occasione Per dirvi Anche voi Se volete Potete donare dei capelli Non tagliarveli Praticamente tutti Come ho fatto io Ma semplicemente Specialmente voi ragazze Dietro Magari in mezzo Fate una treccina E poi la spedite E poi potete tenervi I vostri capelli lunghi Ok sigillata la busta Domani la spediremo in posta Bene ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se fosse stato così Un bel pollice in su E mi raccomando Scrivetemi nei commenti Come sto così Con i capelli corti E mi raccomando Seguitemi anche su Instagram Che trovate qua sotto In descrizione Grazie ragazzi Per tutto il supporto Che mi date Vi auguro un buon 2017 Pieno di felicità E di gioia soprattutto Io ragazzi Vi saluto E vi mando un abbraccione E un altro video E... Ciao belli!